Ciao amici, oggi vi racconto che cosa ha avuto Pinta e come mai se l'è vista brutta. Adesso la vedete di tranquilla, ma abbiamo veramente passato un brutto periodo e non ne siamo ancora fuori del tutto. È partito tutto circa un mese e mezzo fa, quando a un certo punto Pinta non riusciva più a salire sul letto, una cosa che ha sempre fatto con grande agilità. Niente, ha provato due, tre, quattro volte e continuava a cadere. La cosa mi ha subito insospettito, poi è riuscita a salire, però comunque ho pensato subito che ci fosse qualcosa di strano. Ci sono stati altri piccoli segnali, tipo dei guaiiti durante certi movimenti, quindi evidentemente provava dolore in certe posizioni. L'ho fatta subito controllare, ovviamente, però proprio perché i sintomi non erano così eclatanti, così manifesti, non hanno trovato nessuna causa. Morale, dopo una settimana, dopo diversi esami di approfondimento, non camminava più, non mangiava, non beveva, non si alzava. L'abbiamo subito fatta ricoverare per intanto alimentarsi, si era attaccata a una flebo. È stata una settimana in una clinica dove hanno fatto altri esami di approfondimento. Gli esami che abbiamo fatto sono stati vari esami del sangue, ecografia dell'addome, elettrocardiogramma, ecocardio, elettromiografia, prelievo del liquido spinale e risonanza magnetica e poi qualcos'altro. Durante il ricovero in clinica, per fortuna, hanno trovato la causa. Praticamente ha avuto un'encefalite, quindi un'infiammazione del tessuto cerebrale. Mi hanno fatto vedere la risonanza magnetica e devo dire che mi ha fatto molta impressione perché appunto si vedevano tanti punti, perché era multifocale, quindi in tanti punti diversi dell'encefalo c'erano queste aree di infiammazione che venivano evidenziate con un colore diverso appunto. La causa però di questa encefalite è rimasta ignota, nel senso che non l'hanno trovata nonostante tanti esami di approfondimento che sono risultati però tutti negativi. Ha preso da subito una valanga di farmaci, tra cui cortisone e antibiotici e devo dire che hanno funzionato perché si è ripresa molto in fretta. Ha ripreso a camminare, mangiare, bere e ha una buona qualità della vita adesso. Dopo un mese e mezzo di cure però ancora la situazione non è stabile e non sanno dirci come potrà evolvere. Pinta non è pinta al 100%, ha cambiato voce, ha uno sguardo un po' assente, un po' spiritato, è magra, è debole, ogni tanto inciampa, non corre, non salta. Vedremo. Inoltre settimana scorsa abbiamo provato a diminuire la dose di cortisone ma è peggiorato in modo molto evidente e quindi abbiamo dovuto riportarla alla dose iniziale che è davvero elevata. Questo non è un bel segnale perché purtroppo significa che l'infiammazione è ancora in corso e non sapendo qual è la causa potrebbe essere ancora presente. Volevo ringraziarvi perché in questo periodo ci siete stati davvero molto vicini con messaggi, auguri, sostegno di ogni tipo. Ho sentito proprio che eravate con noi. In questo periodo difficile, veramente emotivamente difficile, è stato un grande aiuto. Probabilmente per un po' non vedrete altri video di pratica con Pinta perché ha veramente bisogno di riposo. Se ne vedrete qualcuno nuovo di pratica in realtà non è nuovo, nel senso che l'ho registrato qualche tempo fa e lo capite perché Pinta non ha le zampe rasate. Scusate se non riesco a rispondere a tutti quando mi chiedete come sta Pinta però ricevo davvero tantissimi messaggi. Li leggo tutti ma non riesco a rispondere a tutti. Quindi preferisco rispondervi così tramite un video oppure aggiornandovi su Facebook ogni tanto se ho qualcosa da dirvi di nuovo perché come vedete la situazione è molto incerta anche per noi. Quindi spero prima o poi di darvi qualche altra buona notizia. Nel frattempo grazie a tutti di cuore. Alla prossima. Ciao. Ciao.